Credo che molti di noi si ricordano quanti giovani andavano all'oratorio, abbiamo conosciuto i nostri sacerdoti che ci hanno accompagnato nel cammino della prima comunione, della cresima, ci hanno aiutato nel matrimonio, ci hanno battezzato i figli e poi anche per loro arriva un'età nel quale c'è il pensionamento. Ecco, in questo momento questi sacerdoti hanno bisogno almeno una volta all'anno di ritrovarsi. Noi non facciamo nulla di eccezionale, è solo un cammino intrapreso con la Chiesa di Milano inizialmente e poi con la Conferenza Episcopale Lombarda di radunare una volta all'anno a Caravaggio, che è il santuario di riferimento per la nostra regione, questi sacerdoti ammalati e anziani e far vivere a loro un momento di amicizia, un momento di condivisione che li porti a riscoprire il bene di stare insieme, soprattutto in un momento dove l'essere insieme significa riscoprire amicizia e spiritualità.